Musica 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 Ma a te l'ha mandato l'indirizzo? No! Ma scusa, siamo arrivati fino a qui Sono in India senza indirizzo Che ne so, lui mi ha detto Sono l'India del Nord Che ne so io? Ma è grande, non esco fuori io l'India E sentite ora dove andiamo Qualcuno ci darà L'indicazione Ma ci portai Ci portai gli spaghetti Altro signore Ma io Signore Ti dici come figlio? Io non sapere Michelangelo Palumbo Michelangelo Palumbo India Nord India del Nord Nord India Dare soldi per questo cammello Dare soldi per il cammello Ah! In India sempre i soldi per il cammello No 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 Grazie grazie Arrivederci Ciao Terminata Ma scusi, io mi disse l'India Noi cerchiamo un ciccucci qua l'India Mamma ha scambiato l'India per Terranova San Popolo Proviamo, camminiamo Ma manca Paola di rispondere su lei Senti, ti hai provato il chiamo a Paola Ma le hai mandato un Whatsapp Amici Non ci dico precisamente dove siete Nuova Delhi Nuova Delhi Come è Nuova Delhi? A Nuova Delhi A Delia Nuova A Delia Paese mio era Ah Sentite, aspettate Tu guida Va dritto che sicuramente qualcuno trova A prima a sinistra A prima a sinistra A qualche parte troviamo A destra o a sinistra A qualche parte su Dai, si va Siete, lascia Un po' le dita Un po' le dita Un po' le dita Un po' le dita E' un po' le dita Un po' le dita Non lo so E' un po' le dita Come sicuramente viene se lo prende con me No over Mimmo, Mimmo, bella vita, è certo, arriviamo fino all'India per Michele, che bella scena, chiedo che Peppia, chiedate che sta a zona, e veniamo a casa, prendiamo questi soldi, non abbiamo fatto un lungo viaggio, ma? Ma calma, ti attendi, facciamo un attimo, ma che dobbiamo fare, siamo in un attimo? Vimmo fino all'India, ho fatto il Palanzatù, che prendiamo la mattina, ca wapil, pepil, 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 che riesco a vedere! Abbiamo questa mattina, se in India vediamo che sta facendo un'altra, ma non ci ripostiamo, no ci ripostiamo, non ci ripostiamo, lo troviamo, ha detto tu che lo troviamo, ci ha portato che la dobbiamo trovare e lo troviamo, però calmati. Sì, ma troviamo i figlioli, l'India è grande, mica è piccola, mica è come ci stavamo prima. Abbiamo individuato la zona. Sì, la zona, la zona, la zona. Sapete che vi dico? Mi sento pure io, mi sdraio e come faccio faccio. Ah, bravo, bravo. Basta, non ce la faccio giù, c'era tutta l'India, tutta, di capo, a peli. Basta, ma dopo tutto pure io... Certo, con l'altra scienziata di Paola si vanno in giro la mattina. Ma non potevano i raccolti. Delia, Nuova, invece Nuova, Delia. Anche se non l'avevamo trovata. Anche se non l'avevamo trovata. Anche se non l'avevamo trovata, è festa. Ma per Dio sti spaghetti che stanno buttando in vino, si scocini quando l'avevamo. Sapete che vi dico? Eh, basta. Basta, basta. Se non lo trovavamo, non lo trovavamo. Non è che li potevamo ammazzare. Brava. Era ora. Era ora. Certo, cammiamo a metà la cosa sia che ho meglio di preferire. Senti, prova a mandare. Eh, un sapete a chi volete. Dici dove siamo noi. Vediamo se si risponde e se non si risponde basta. Che dobbiamo fare? Non ho fatto. Mi chi? Mi chi? Mi chi? Mi chi? Siamo in India. Sì, in India. Allora adesso tu mi devi dire, anzi vieni tu meglio perché guarda è da stasmo azzinetto che camminiamo. allora noi ci troviamo precisamente poi gli mandi la posizione su whatsapp ti mando la posizione su whatsapp per piacere vieni a provarci perché non riusciamo a raggiungere ok ti aspettiamo ciao 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 a mamma a mamma a mamma sali papà sali papà noi facciamo il giro sulle elefance dietro dietro non è che si incapporta bravo Leo è bello da qua in alto si vede tutto è bello e pure è comodissimo è bello 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 auguri progetto un bacio grande augurio che 30 anni sono importanti ciao anche qua fuoco figlio 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 auguri che ti voglio apprezzare tanto ciao ciao amici sono zio franco e questa è zia Elsa e mi raccomando stai attento agli indiani che hanno le frecce e ti chiamano miso pallido e attento anche ai monsoni in questo periodo comunque sono 30 anni sei ancora a scapolo c'è tempo io mi sono sposato da 34 anni quindi auguro ciao auguri micchi tesoro mio mi ricordo di te quando eri piccolino quando ci siamo sposati avevi otto mesi mi pare eri bellissimo continuamente continuamente tuo papà è nel filmino sempre col biberone in mano tesoro mio stai diventando grande auguri auguroni bacioni a presto scusi 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 ha visto mio figlio chi dite l'angelo palumbo vedere soldi dare gommello vedere soldi dare gommello a destra a destra a destra a destra leandro cazzo fallo aspetta però facciamo le 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 b va avanti? vai rifiammola no vabbè si è Paola quanto mangia Paola se stai vincendo Paola mangia si Paola mamma mia che trebbia ti ho portato spaghetti e vino Paola mamma ma sei scemo ma la dramma la capisci non capisci la dramma i gioli veniti con mia ma non è che gli vuoi fare un appello e lo so ma sono già un po' più guardate mia mamma a me mi parò l'unica parentia povero cane